In ragione dell'andamento epidemiologico della pandemia e al possibile ulteriore incremento dei ricoveri in reparti per acuti, in particolare di terapia intensiva e di area medica, l'assessore alle politiche della salute per Luigi Lopalco e il direttore del Dipartimento Vito Montanaro hanno disposto con decorrenza immediata e fino alla mezzanotte di martedì 27 ottobre 2020 che vengono sospesi i ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture ospedaliere pubbliche covid e no covid, inoltre di effettuare solo ricoveri con carattere d'urgenza non differibile provenienti dalle strutture di pronto soccorso, di effettuare ricoveri per pazienti oncologici e le prestazioni non differibili e urgenti previsti dalle disposizioni vigenti inerenti al percorso nascita, la sospensione per tutta l'attività in libera professione intramenia. La sospensione temporanea dei ricoveri programmati negli ospedali della regione, dichiara l'assessore Lopalco, consentirà di concentrare le risorse umane sulle attività connesse ai ricoveri d'urgenza che siano o no legate alla pandemia, garantendo altresì la disponibilità di maggiori spazi attualmente occupati dalle attività sospese. Questo favorirà anche una maggiore funzionalità e maggiore capienza delle cosiddette aree grigie presenti nelle aree di urgenza e dedicate alla valutazione dei pazienti prima dell'eventuale ricovero. Si tratta di una scelta temporanea, spiega il direttore Montanaro, dettata dalla veloce impennata dei ricoveri conseguenti alla diffusione del Covid. Stiamo lavorando in queste ore per allestire posti letto aggiuntivi di area medica e per assumere operatori sanitari necessari a soddisfare il significativo aumento del bisogno assistenziale. Stiamo inoltre provando a migliorare l'attività di filtro del territorio che in queste ultime ore è messa a dura prova per l'elevato numero di contagi.